I giocattoli dismessi non finiranno più nel contenitore dei rifiuti indifferenziati, ma nelle mani di altri bambini. È lo spirito di Rigiochiamo, attività di educazione ambientale con un risvolto sociale, curata dalla 1 a 1 differenziata nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019. I piccoli allievi dell'Istituto Comprensivo Santa Caterina Resuttano di Santa Caterina Villarmosa sono stati invitati a portare a scuola i giocattoli che non usano più, piuttosto che buttarli nella spazzatura, in modo che possono essere destinati in dono ad altri bambini. Il Festival per lo Sviluppo Sostenibile è un'iniziativa promossa da ASVIS, l'Alleanza dello Sviluppo Sostenibile, per fare una grande e condivisa campagna di advocacy e comunicazione sulle tematiche di sostenibilità, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità economica e si concentra sulla partecipazione di aziende del terzo settore e della pubblica amministrazione a campagne di attenzione su uno dei diversi goal ed è strutturato attraverso una serie di eventi nazionali e locali. Perché è importante? È importante perché attraverso questo modello chiunque abbia qualche cosa da dire o abbia da portare la sua testimonianza a questo tema così rilevante e così importante per tutti i livelli della società ha la possibilità di farlo e ha la possibilità di condividere una serie di esperienze trasversalmente per settori, per goal e per ambiti professionali e settoriali.